buongiorno allora sono appena arrivato non ho neanche fatto in tempo a mettere giù la mia bella roba e lui ha già la canna piegata perché non riesce fatto così almeno saluta aspetta che ora mi devo arrampicare un attimo che guardo qua se no mi ammazzo piano piano eccomi qua buongiorno meno potevi salutare eccolo qua dai dai che ora sei qua no da lì sì per me te l'hai ripreparata eccolo qui buongiorno eh buongiorno signor Luca e se il buongiorno si vede dal mattino non è che fatto in tempo a mettere giù la mia roba sto ancora sullo zaino va bene dai che andiamo a fare la pesca ho messo anche un vivo ok mare in queste condizioni qua alveggia sono in ritardo però ragazzi c'era una idea della madonna vabbè datemi un minuto facciamo partire il video allora non diciamo dove siamo sbiamo le indagini esatto perché sennò poi vengo bacchettato perché tu non devi dire dove vai a pescare non devi dire cosa peschi come peschi è la vigilia di Natale io sono arrivato lui aveva già la canna piegata gli ho detto ma ti sembra il modo di salutare mi dice no ma vieni un attimo a vedere fai vedere sto sarago un attimo mettici dentro la mano che cos'è un chilo no sarà 8 20 sarà giusto ieri sera mi è arrivata beh ma che bella bestia è arrivata la notifica di questo tuo amico sardo Vincenzo Mellis e dice che gli ha insegnato tu a pescare ah si e voleva vedere la pezzatura non si vedeva eccoti qua la pezzatura la pezzatura è quella vabbè comunque giornata volosa però proprio da spivola si è ottimo io sono partito da da casa che c'era meno uno freddo della madonna macchina ghiacciata nebbia nebbia e arrivo qua che ci sono 13 gradi si vabbè il tempo non è il massimo però che dici franco il tempo giusto da bolognese da pescare in bolognese non facciamo vedere niente neanche l'innesco no no vabbè l'innesco cazzo meraviglia basta prendere i bigattini due bigattini due bigattini dai sono ragazzi si pesca col bigattino piatto ricco ce ne metto tre tanto il mare lo chiama ok faccio la mia bella montatura a dopo dicevi? che questo qua è un regalino che ti ho portato che l'ho preso ad ottobre in Sardegna venga ragazzi guardate il mio regalo di Natale una bella spigolozza pulita 2,3 kg fatta con l'esca viva giù in Sardegna tu te la condividi con la famiglia te la sbaffi tutta è il primo che parla sul canale subito a tacere questo qua è mio si però io sono arrivato da 5 minuti hai già fatto un pesce hai tirato fuori 2,5 kg di spigola e c'ho ancora il fiatone un attimo allora adesso veramente mi fermo un attimo là ci sono altri due che pescano inizia a montare inizia a montare appena riempito il secchio dell'acqua un attimo e allora Francusso ha messo gli occhiali cattive intenzioni cattive intenzioni e io ho fatto il mio primo branzino nel momento in cui Franco me l'ha incoppato ho baciato l'anello e sono andato sotto la curva ho fatto il mio primo branzino della vita non so io credo che si sia capito che di pesca non è che sono proprio un Sanpei ma va anche poco tempo ho poco tempo abito nella zona dei ciuccianebbia dei bauscia dei polentoni e delle carpe e delle carpe esatto e a mare sto mese qua è la seconda volta che riesco a scendere ho anche tre figli quindi non è che ho proprio sto gran tempo libero e niente cattive intenzioni Franco vuoi andare un po' più sotto non spieghiamo montature o non montature no voglio pescare più leggero vuoi pescare più leggero un ammetto piccolo terminale piccolo 0,12 e via andare a posto a posto torniamo in pesca? torniamo in pesca dai forza comunque è un'alba stupenda dai facciamo vedere fa vedere saraghino a rilascio pronta a rilascio eccolo lì libero la giornata è un spettacolo io sono con la giacca e io senza ma lui senza con 15 gradi si sta da dio condizione perfetta questa per la pesca l'onda l'onda è mezzo metro ma si ci sarà 40 cm di onda scaduta piena io sto pescando un po' più verso mare e francuso un po' più verso terra è un momento è un momento di calma è un momento di calma momento di calma non sono in attività non stanno mangiando speriamo che si riattivi allora nel momento di calma diciamo quattro parole sul canale che abbiamo aperto mica che qualcuno pensi che vogliamo insegnare qualcosa a qualcuno non c'è niente da insegnare anzi io direi di non fare domande tecniche nei commenti o roba del genere perché allora io non sono all'altezza di rispondere e e se dovessi rispondere c'è qualcuno che mi bacchetta perché non devi dire niente giusto franco? giusto non si dice niente e anzi quasi quasi disattivo i commenti perché non vogliamo sapere niente da nessuno comunque non siamo da soli a pescare aspetta che faccio l'inquadratura hanno preso qualcosa? no niente noi abbiamo fatto allora franco ha fatto vabbè il sarago che ho fatto vedere prima con la spigola ho fatto io una spigola e poi abbiamo eh sì sì sarago grande che sarà quasi un chilo le due spigolotte che sono ma appena appena giusto sopra taglia piccoline e poi abbiamo fatto una decina di saraghi sotto taglia che abbiamo rilasciato adesso è momento di calma vuoi dire qualcosa no aspettiamo una boccata ottimismo 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 con calma facciamo un altro video ecco altrimenti facciamo quello dei saluti dopo facciamo così a dopo ciao eccoci qua canna piegata c'è un mare fantastico e francusso da spettacolo aspetta che mi metto di qua è allegro questo qua eh no aspetta che c'ho il coppo becca troia ok ok ne ho appena fatto anche uno così eh è un'ottima giornata per pescare questa qua oggi lo rilasciamo? lo rilasciamo? dai lo rilasciamo rilasciamolo rilasciamo si io ne ho tenuto uno della stessa taglia della stessa pezzatura perché ok non andrebbe fatto diciamo che non andrebbe fatto franco però per gli ambientalisti facciamo vedere no però uno da farmi al microonde una sera che torno presto da lavoro me lo porto a casa bravo bravissimo grande franco e anche questa è pesca ok mezzogiorno e qualcosina mare ancora mosso è cambiata leggermente la corrente lì ci sono i nostri due galleggianti franpola si farà come baglioni si porta via i cannoni i cannoni la giornata poteva andare meglio è iniziata bene con un bel saragone due belle spigole saraghi 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 poi niente si è fermato tutto ho provato anche a scendere di terminale ma no neanche con l'undici stanno mangiando più a questo punto direi che possiamo anche taccare e riprovarci un'altra volta ok questa era le conclusioni del pescatore quello vero da parte mia invece è stata una giornata fantastica abbiamo preso un sacco di pesci mi sono divertito in una cifra ho fatto la prima spigola della mia vita ho fatto anche un sarago di tretti che è nel secchio sì ok non è enorme va bene tutto quello che vuoi però lo porto a casa e poi mi si era incannato qualcosa di più grande franco dice un sarago era un sarago sicuramente è andato in Tana e quello probabilmente sarebbe stato il pesce più grande che io avessi preso finora se è intanato speriamo che i bigattini gli siano perlomeno andati di traverso e gli sia venuto almeno un mal di stomaco comunque va bene salutiamo tutti alla prossima alla prossima ciao ragazzi ciao